ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi abbiamo montato il mazzo cyber drago con il cyber oscuro direttamente dal nuovo mazzo che è uscito pochi giorni fa allora vi faccio vedere come l'ho montato montato direttamente dallo sboosting quindi ancora le bustine protettive non le ho però intanto vi faccio vedere come l'ho fatto 3 cyber drago d'obbligo carta che si evoca speciali se l'avversario controllo un mostro fortissimo è un livello 5 quindi comunque si possono fare un bel po di cose e averlo in campo è sempre utile 2 nachter 3 nucleo carta fortissima da giocare a 3 2 chimera cyber oscura questa è una delle nuove ultra dello structure che non è niente male come carta quindi a 2 la giocata due hertz questa qui carta molto forte una gran bella ristampa quindi la gioco a 2 poi 3 artiglio cyber oscuro che è veramente forte da utilizzare per i cyber oscuri quindi da giocare a 3 assolutamente e questo nuovo supporto è veramente forte un corno cyber oscuro ali cyber oscure in 1x quindi 3 artigli un corno un ali poi 3 cannone cyber oscuro anche questa carta fortissima per le carte cyber oscure quindi a giocare a 3 uno scheletro cyber oscuro a 1 poi uno cibern attaccamento un cyberdrago vr perché per me è forte alcune liste ne ho visto che non lo giocano però uno io lo metterei poi tre orizzonte cibernetico vincolo di potere due vincolo di potere 3 cyber emergenza perché questa è una delle carte più forti del mazzo quindi a 3 ci vuole una fusione cibernet ciber carico io giocherei anche a 2 ma in questa dec list da ho già raggiunto le 40 41 carte più di così direi di lasciar stare 3 reame ciber oscuro ciber oscuro quando questa carta viene attivato per aggiungere dal tuo deck alla tua mano un monster cyber oscuro con nome diverso alle carte del cimitero quindi già a dare dei cyber oscuri per poter fare la fusione grossa non è niente male una fusione sovraccarico un ciber eterno carta veramente forte l'avevo sottovalutata ma è fortissima due duplicazioni di macchine giocatene anche 3 se vi va è una delle carte più forti del cyber drago un overflow cibernetico e un'invasione ciber oscura ok questa è la deck list io l'ho fatta così è una deck list senza impermanence e ragazzi se l'avete giocate le impermanence se no potete montarvi questo mazzo anche senza extra fatto con tre strutture 3 drago finale ciber oscuro 3 server drago finale 3 drago supremo chimera te drago cyber oscurità 3 e 3 drago cyber oscuro ok finiamo così così è finita la deck list cyber drago molto semplice molto budget un mazzo veramente economico da fare e anche molto forte per gli amanti del cyber drago chi la volesse fare io la consiglio e ragazzi detto questo vi ringrazio per la visione ci vediamo al prossimo video